La misura è colma, i continui rinvii sulla firma della Convenzione Enav hanno provocato la dura reazione del territorio che si unisce nella battaglia a difesa dell'aeroporto di Comiso e se Gianni Cernigliaro ricomincia il suo sciopero della fame oggi al secondo giorno, i sindacati chiedono al commissario Scarso la convocazione degli stati generali della provincia. L'onorevole Di Giacomo intanto annuncia azioni legali nei confronti dell'ente nazionale aviazione civile. A dire avvie legali perché mi pare che ci siano tutte le caratteristiche per poter avviare una class action. D'altronde l'Enav giustamente si rende conto che prendersi 4 milioni e mezzo per due anni e poi andarsene è una cosa che si profila come un furto legale soprattutto se perpetrato da chi è un ente di servizio pubblico, un po' come la scuola e un po' come la sanità. Per cui cercano questo lascia passare nella consapevolezza del furto che stanno perpetrando e lo vogliono legalizzare. Noi dobbiamo impedire che ciò avvenga, che ciò accada. Tutto questo però si traduce in una inutile perdita di tempo, inutile consapevole e a questo punto non so se ci siano anche delle ragioni che noi non riusciamo a percepire e se siano queste delle ragioni trasparenti, quindi non solo di legittimità e legalità che si tende di dare a un atto illegittimo, illegale e torbido. Quindi dati questi presupposti al di aria e altri aspetti su cui sta legittimamente approfondendo la magistratura noi come cittadini, come parlamentari dobbiamo promuovere questa azione. Grazie. Grazie. Grazie.